bella ragazzi bentornati nel canale di fefe gaming direttamente dalla zona relax di fefe gaming allora ragazzi questa sera video diverso innanzitutto ragazzi voglio parlare dell'inter che ha giocato sabato pomeriggio dove c'è stato inter parma allora che vi posso dire sono contentissimo che l'inter ha perso col parma comunque secondo me l'inter non se l'è meritata comunque ha giocato bene l'inter contro il parma ha fatto una bella partita e tutto un po di fortuna diciamo l'è andata che la palla fine l'ha appletto l'ottantacinqueso mi sembra se non sbaglio il parma comunque io l'avevo detto il parma è una bella squadra ragazzi di marco ha fatto un euro goal un goal di quelli spettacolari e mi dispiace per i cugini intertritti però ragazzi inter 0 parma ok ragazzi passiamo alla partita al posticipo di ieri sera che mi ha fatto saltare la live essendo milanista lo sapete tutti cagliari milan allora che dire il milan secondo me ancora non è squadra perché comunque ok tanto di rispetto al cagliari però non puoi fare 20 minuti a soffrire contro il cagliari cioè non puoi soffrire contro il cagliari ma stiamo scherzando cioè e poi tu mi fai uscire all'ottantesimo settantacinquesimo barro ottantesimo mi fai entrare l'axalt cioè all'ottantesimo me lo fai entrare ma si imbacati in da capa cioè minchia fammelo entrare al secondo tempo subito l'axalt perché l'axalt comunque è veloce che cross ha fatto l'axalt 10 o 10 minuti ragazzi che è entrato l'axalt ha fatto tre cross poi vabbè lì lasciate stare qua in che ha fatto una papera perché se c'era cutrone ragazzi quello è la goal e come l'anno scorso ci svegliamo troppo tardi ci svegliamo comunque quando ormai siamo al settantesimo all'ottantesimo abbiamo fatto magari quei 20 minuti di secondo tempo di dominio milan e quei 10 minuti al primo tempo però dobbiamo farle prima le cose dobbiamo farle prima e ha fatto una bella partita un po di alti e bassi comunque il napoli si sapeva che va per forza vincere dopo il passo falso con la samp ha fatto una bella partita ha rischiato anche lì però è riuscito comunque a mantenere questo risultato per la prima volta dopo tre partite è riuscito a fare tutto bene sia il primo tempo quel secondo e non solo il secondo tempo come ha fatto le prime due barra tre giornate vabbè la juve si sapeva che vinceva come ha vinto lasciatelo stare comunque era un deb in casa juve a contro juve b anche se secondo me ragazzi se voi rivedete bene i gol però il primo gol mi sembra che sembra che gliela passata a cr7 il secondo gol il portiere neanche si è mosso però vabbè poi mi dicono eh sei un anti juventino sei anti sportivo e di qua e di là il sassuolo accanto non ha fatto una mazza solo boateng ha fatto due barra tre azioni non ha fatto niente proprio il sassuolo sembrava che tipo una micchiole di quelle estive tipo al precampionato di fifa 18 ragazzi capito che che loro stanno fermi tu ci giochi fai tre passaggini bambama gol la roma e ha fatto una bella partita mi dispiace per il 2 a 2 perché comunque la roma ha fatto il milan ha fatto il milan di due settimane fa dove vincevamo ci sono fatti recuperare come dei babbuccioni chi è rimasta la lazio ha vinto di misura però mi hanno detto che ha giocato bene fiorentina l'ha presa dal napoli però anche la fiorentina ha fatto un bel paio di belle azioni la spalla e l'anti juve ricordatevelo ragazzi la spalla e l'anti juve quest'anno ragazzi un saluto alla vostra fefe gaming penso di avervi detto tutto